Il piatto forte È un tartare di carne, di fassona piemontese, con dei funghi porcini crudi, condita con olio, pepe, sale e un pochino di scalogno, semplicissima così. Seguono due primi. Uno è un risotto mantecato con l'Arnaise Brut, dopodiché abbiamo dei tagliarin classici, mantecati con il burro di cacao, proprio perché siamo in una pasticceria, e tartufo bianco d'alba. Poi come secondo un brasato a roero con le castagne e un cucchiaino di polenta taragna. Volevamo dare un gusto un po' più particolare perché è un grano più saporito rispetto a quelli classici usati per la polenta. E il dolce, sempre piemontese, è il boné alle nocciole, nocciole del Piemonte.